Buon di buona gente, sono Luigi in arte Lusio, anzi professor Lusio, e benvenuti a questa nuova video-lezione, nuovo appuntamento con la mini-serie sulle sei mogli di Enrico VIII, ovvero le SIX. Penultimo episodio, manca ormai poco alla fine, anzi pochissimo, e non voglio perdere altro tempo perché ho fatto sei pagine di script, quindi potete solo immaginare quanto mi verrà a durare questo video. Solo una piccola premessa, potrebbe, 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 dico potrebbe, sentirsi il telefono che squilla. Io tengo la placchetta del cordless qui in camera, però il telefono è dall'altro lato. Voi non vi preoccupate, io non voglio stoppare niente perché ho visto che ultimamente mi si sfasa il video, quando lo interrompo e poi lo riprendo, non voglio creare questi difetti tecnici, quindi casomai cercherò di tenere un po' alto il volume, devo sperare che mio padre risponda in maniera accellere al telefono e prendetelo come se fosse un piccolo attimo di domestica, di quotidiana domesticità avvelenata dalla burocrazia, perché quello è alla fine, quindi vi prego di avere pazienza, poi magari il telefono non squillerà, in quel caso io mi reputerò fortunatissimo. Bene, non perdiamo altro tempo, quindi buttiamoci subito in questa nuova video lezione. E oggi parliamo della quinta SIX, Catherine Howard. Catherine Howard è forse la più vessata tra le SIX. Se sulle prime tre, Caterina d'Aragona, Anna Bolena e Jane Seymour, si hanno pareri discordanti tra chi le ama e chi le odia, a seconda delle simpatie o antipatie personali, mentre Anna Di Cleve e Catherine Parr sono prevalentemente molto apprezzate, la prima perché è riuscita a sopravvivere al rispetto di tutto e di tutti, la seconda per il suo essere una figura di una certa levatura culturale, Catherine Howard risente molto dello sfavore popolare e suscita poche simpatie, e anche quei pochi che cercano di essere benevoli con lei non si esimono dal definirla una stupida che se l'è andata a cercare, frase molto infelice visti i tempi che corrono, ma come ormai avrete capito, qui su questo mio canale si cerca di andare oltre, con carte alla mano e sudore buttato sui libri e non sulle serie tv, e cercando di lasciare da parte simpatie e antipatie di carattere personale. Quindi, bando alle ciance e iniziamo. Catherine Howard, la lolita dell'epoca dei Tudor, dicono molti, lei più di tutte le six ci mostra quanto è facile per noi osservatori moderni affibbiare etichette ai personaggi del passato, di cui alla fin fine non ci preme nemmeno tanto approfondire la figura e la personalità dal momento che non hanno lasciato segni importanti nella storia, come è appunto il caso di Catherine, ma per correttezza storica più che per umanità, dobbiamo dire che non era la ninfetta, la lolita che tutti pensano, anzi, se vogliamo sbilanciarci un po' e la inquadriamo nella nostra ottica moderna, lei era di base un adolescente come lo sono tanti altri di oggi. La sua infanzia e la sua prima adolescenza, definita disordinata, perché vissuta in un contesto abbastanza promiscuo, non ha nulla di differente con la crescita e le esperienze vissute da molti di noi, soprattutto dal punto di vista dell'educazione S-E-S-S-U-A-L-E, scusate, devo fare lo spelling, se no YouTube si incavola. Attenzione però, attenzione, inquadrarla nella nostra ottica non significa dover perdere di vista il punto di vista del Cinquecento nel quale lei è vissuta, però già questa visione un po' moderna dovrebbe spingerci a ridimensionarla un po'. Noi non conosciamo la data esatta della nascita di Cedrin, gli storici oscillano tra il 1520 e il 1523, con una preferenza per quest'ultima data. Era la figlia quintogenita di Edmund Howard e di Joyce Culpeper. Dal momento che suo padre era fratello di Elizabeth Howard, madre di Anna Bolena, Cedrin era cugina prima di quest'ultima, ma non sembra che gode mai di un qualche privilegio durante il regno di Anna Bolena, che era più grande di lei di circa una ventina d'anni. Questo era dovuto a vari fattori, il primo dei quali è che gli Howard erano una famiglia assai numerosa, qui contando anche le varie ramificazioni tra cugini di vario grado, parenti acquisiti, doppi matrimoni, figli di primo e di secondo letto, eccetera, eccetera. Erano praticamente un esercito, praticamente una famiglia del sud quando si riunisce per il cenone di Natale o a Capodanno. Un altro aspetto è che Cedrin era quella che oggi verrebbe chiamata una parente povera. Suo padre Edmund, a differenza del fratello di quest'ultimo, Thomas Howard, il duca di Norfolk, colui che comandava in famiglia, Edmund contava praticamente zero alla corte. Anzi, era allontanato da tutti perché ritenuto uno scialacquatore, come a dire che se la sua famiglia ad una certa sfiorò la miseria, fu solo per colpa sua. Diciamo quindi che Cedrin aveva dalla sua giusto il nome della sua famiglia, una delle più nobili e stimate d'Inghilterra, qualora avesse ambito ad un buon matrimonio quando fosse arrivato il momento. Chiedo sempre scusa per questo modo di parlare che sembra quasi paternalistico e misogino, ma alla fin fine alle donne di quell'epoca si chiedeva solo di essere mogli e madri. Dal momento che comunque un'educazione non poteva mancarle, ed essendo intanto rimasta orfana di madre, Cedrin venne mandata già da piccola nel 1528 a stare da sua nonna, la matrigna di suo padre, Agnes Tilney, duchessa vedova di Norfolk, la vera matriarca della famiglia. Sotto la sua tutela venivano posti tutte le nuove generazioni di questa numerosa e ramificata famiglia, per lo più nella Norfolk House di Lambeth, affinché ricevessero tutti un'educazione consona al loro rango. I risultati erano... diciamo un 50 e 50... ecco. A Lambeth vivevano quasi un centinaio di persone, tra membri della famiglia Howard e servitori vari, ma anche piccoli esponenti di altre famiglie che volevano che la loro prole ricevesse un'educazione degna del loro rango. Vista una tale portata di presenza in questa che possiamo quasi definire una sorta di collegio antelitteram, non c'è da dubitare che la contessa Agnes non fosse competente nei suoi intenti educativi. Ignoratelo. Ma ovviamente è difficile tenere sotto controllo un esercito di adolescenti con gli ormoni a palla. Cioè, con tutta la sorveglianza che ci si può mettere qualche scappatella, di sicuro ci scappa, capite a me, abbiamo avuto tutti dai 16 ai 18 anni, siamo stati tutti qua al liceo, in gita di più giorni, da qualche parte, quindi la sera, in albergo, chi scivolava nella stanza di un'altra... Ragazzi, non nascondiamoci di questi fatti, è l'educazione sentimentale di tutti noi adolescenti al liceo. Bene. Ed è in questo ambiente che crebbe Catherine fin dalla sua prima infanzia e qui ebbe anche la sua formazione sentimentale e... Avete capito di cosa sto parlando? Ne cerchiamo di evitare di usare troppe brutte parole. Risale al 1536, quando Catherine doveva avere tra i 13 e i 15 anni, la sua età è sempre ipotetica, purtroppo. Bene. È di quel periodo, del 1536, quella che viene definita la sua prima relazione, anche se non me la sento di definirla tale. Tra i vari istitutori e insegnanti presenti a Lambeth c'era anche un insegnante di musica, di nome Henry Manox. Non si sa con esattezza che età avesse, per alcuni doveva essere attorno alla prima metà dei 30 anni. Ebbene, fu con lui che Catherine ebbe il suo primo approccio. Allora, mettiamo le mani avanti. Siamo in un'epoca in cui le fanciulle venivano fatte sposare anche quando avevano solo 13 anni, a volte anche con uomini più vecchi di loro, ma i matrimoni erano contratti di tipo economico. Teniamolo sempre a mente. L'amore non c'entrava niente. Per cui, pur considerando questo aspetto che non dovrebbe farci stoccere il naso, dobbiamo tenere presente che in questo rapporto non sembra fosse contemplato il matrimonio. Per cui, abbiamo un uomo di più di 30 anni che metteva le mani addosso a una ragazzina che minimo minimo aveva 13 anni. Bene, sappiamo tutti come si chiama, che nome ha questa cosa. Capite a me. Qualcuno potrebbe obiettare «Eh, ma lei forse ci stava!» Con i forse non si va avanti. E io personalmente dubito che una ragazzina alle prime armi, per quanto vissuta nel Cinquecento, quando l'educazione e il concetto dell'età erano differenti da quello moderno, allora, non credo che, dubito che fosse consapevole di quanto le stesse avvenendo. Ne ho molti dubbi al riguardo. Ma comunque questo è un mio pensiero. Poi, ditemi anche voi la vostra. Ditemi voi cosa ne potete pensare. Fatto sta che non sembra che le cose andarono oltre un certo tipo di carezze, dal momento che Catherine, nella stessa confessione che avrebbe reso in seguito, avrebbe confessato comunque di aver avuto rapporti prima del matrimonio, ma riguardo a Henry Manox, non disse mai di essere andata oltre. Non si andò mai oltre. Quindi non credo che si debba dubitare della sua parola. Qualunque fosse la natura di questo rapporto, esso durò fino al 1538, quando Catherine decise di rompere ogni contatto con Henry Manox. Chi lo sa, forse era diventata maggiormente consapevole, non si sa. Fatto sta però che, più o meno nello stesso periodo, Catherine intrecciò un'altra relazione, stavolta molto più importante e probabilmente vissuta con maggior consapevolezza. Avendo ormai raggiunto la piena adolescenza, Catherine venne spostata in un dormitorio pieno di ragazze più grandi e durante la notte, come accade anche al giorno d'oggi, vi ho già raccontato, c'era un discreto via vai notturno con le ragazze che venivano raggiunte dai loro spasimanti. Il più delle volte ragazzi che come loro venivano educati a Lambeth House, che quindi potevano essere o lontani cugini acquisiti o membri di altre famiglie che stavano ricevendo anche loro la medesima istruzione, oppure anche membri del settore lavorativo. E anche Catherine iniziò ad ospitare uno spasimante nel suo letto. Costui era Francis Derham, uno dei segretari di sua nonna, un giovanotto di circa 20 anni, ricco più di belle speranze per il futuro che di sostanze materiali. È probabile che tra i due si instaurò un sentimento sentito e appassionato, oltre che sincero, dal momento che, come facevano molti altri giovani innamorati dell'epoca, fecero una promessa di matrimonio di fronte a Dio, come già a suo tempo fecero Anna Bolena e Henry Percy. Questa promessa, che poteva anche avere valore legittimo in certi casi, era di solito un modo per i giovani di poter avere rapporti intimi al di fuori del matrimonio, senza troppi dilemmi morali, essendo già sposati di fronte a Dio. Ma non credo si debba dubitare troppo della sincerità del rapporto tra Catherine e Francis, almeno per quanto durò la loro relazione. Per lei era il suo primo amore adolescenziale. Mentre sappiamo che Francis aveva intenzione di guadagnare abbastanza denaro per poter farsi una posizione e sposarla così in maniera legittima, non è da escludere che lui si fosse fatto anche qualche conto in tasca al pensiero di sposare una Howard, ma forse era magari anche sincero nei suoi sentimenti per lei, anche perché difficilmente una ragazza di buona famiglia, per quanto povera, avrebbe potuto abbassarsi a sposare un uomo di ceto inferiore a lei senza il rischio di rovinarsi e venire estromessa dal nucleo familiare, come già era avvenuto con Mary Bolena, la sorella di Anna, che sposò in seconde nozze un uomo inferiore a lei, venendo per questo disconosciuta dalla famiglia. Bene, la relazione tra Catherine e Francis Derham divenne ben presto un segreto di pulcinella. Tutti ne erano al corrente e quando anche la duchessa madre ne venne a conoscenza, fece subito in modo di separare i due giovani, licenziando Francis, che sarebbe quindi partito per l'Irlanda, con l'intento di far fortuna in qualche modo e tornare per sposare legittimamente Catherine. Ma, e quindi, di base, anche se si separarono, rimasero uniti dalla loro promessa di un futuro matrimonio legittimo. Quindi, i due si dissero momentaneamente addio con l'augurio di rivedersi presto e si tenero anche in contatto epistolare. Ma presto, complice anche un po' la distanza, Catherine finì per annoiarsi di quel legame troppo sterile e a poco a poco smise di rispondere alle lettere di Derham. Anche perché, ben presto, sul finire del 1539, suo zio Thomas Howard, duca di Norfolk, le trovò un posto come dama di corte in modo da farla entrare nella schiera delle dame di compagnia della quarta nuova moglie di Enrico VIII, Anna di Cleve. La piccosì, la piccola Catherine Howard, all'età di circa 18 anni, fece il suo ingresso a corte. E non mancò molto che la sua bellezza attirò subito l'attenzione del vecchio Enrico, poco interessato alla sua nuova moglie, come abbiamo già visto nella video-lezione precedente. A tutt'oggi, non abbiamo ritratti ufficiali che ritraggono Catherine. Come già accaduto con sua moglie, Anna Bolena, dopo la sua esecuzione di lei venne cancellata ogni traccia in una sorta di damnazio memorie, quindi ogni suo ritratto venne distrutto. Quindi, come vedete, anche di Catherine non ci sono giunte i ritratti ufficiali, quelli che vengono indicati come i suoi ritratti, ovvero il famoso ritratto di giovane donna di Holbein rappresentante appunto questa donna in abiti neri e il tondo sempre di Holbein in cui la stessa donna è rappresentata ma in abiti più allegri, non rappresenterebbero Catherine Howard, ma bensì, secondo la storica Antonia Fraser, nel suo testo Le sei mogli di Enrico VIII, ebbene, in quei ritratti sarebbero ritratti non di Catherine Howard, ma di Elizabeth Seymour, sorella minore della defunta Jane Seymour. Infatti, se si nota, questa figura femminile ha gli stessi tratti somatici di Jane, tra cui il naso affilato e il mento pronunciato. In più, nel ritratto ufficiale di questa donna, lei indossa un abito vedovile ed Elizabeth Seymour proprio all'epoca della composizione di questo ritratto era rimasta vedova, per cui si ritiene che tutti i ritratti derivati da questo non rappresenterebbero Catherine e non possiamo dire con esattezza se o e quanto fosse bella, sicuramente lo fu abbastanza da attirare Enrico VIII e lo stesso ambasciatore francese a corte la descrisse usando la definizione latina parvissima Puella fanciulla piccolissima ad indicare probabilmente la sua statura che doveva la sua piccola statura che doveva risultare ancora di più ancora più piccola se affiancata all'enorme Enrico VIII e sempre secondo Antonia Fraser nel suo libro l'unica possibile rappresentazione di Catherine giunta sino a noi si troverebbe sulla vetrata della cappella del King's College a Cambridge vetrata che venne realizzata proprio nel periodo del quinto matrimonio di Enrico su questa vetrata viene rappresentato l'episodio biblico dell'incontro della regina di Saba con re Salomone a vedere l'immagine di re Salomone si capisce subito che il re biblico è rappresentato con i tratti di Enrico VIII quindi ciò porterebbe ad ipotizzare che per l'immagine di profilo della regina di Saba sia stata usata l'allora regina Catherine Howard io questa immagine l'ho usata come copertina di questo video ma ovviamente se volete andare a studiarvi meglio questi ritratti a metterli magari a confronto tra voi ve li lascio sempre linkati qui giù nell'info box bene per tornare alla storia di Catherine apparve evidente subito a tutto il clan degli Howard duca di Norfolk in testa che il re si fosse incapricciato in tempo zero della piccola Catherine nonostante lui avesse l'età per essere suo nonno avendo quasi 50 anni e lei ha malapena di ciò a malapena 18 scusate questo parve al duca di Norfolk un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare da una parte era evidente che Enrico aveva in mente di mettere subito da parte la sua nuova moglie per cui Catherine poteva già candidarsi come quinta moglie invece che come amante e ciò avrebbe ricondotto gli Howard più vicini al trono di nuovo come all'epoca di Anna Bolena e stavolta anche meglio bisogna tenere presente poi che a corte era sempre viva una silente battaglia tra il partito conservatore cattolico rappresentato dagli Howard e quello dei protestanti rappresentato dai Simur parenti stretti dell'erede al trono il principe Edoardo quindi la storia del quinto matrimonio di Enrico VIII va vista anche sotto quest'ottica della lotta di potere e della guerra di religione nonostante i protagonisti principali Enrico e Catherine appunto se ne fregassero altamente degli aspetti politici e religiosi di quella unione in più il duca di Norfolk era convinto che Catherine sarebbe stata molto più manovrabile dell'altra sua nipote la ben più intelligente e caparbia Anna Bolena e su questo aveva ragione Catherine aveva avuto un'educazione mediocre ma era molto talentuosa in doti come la danza la musica e il canto doti che Enrico apprezzava particolarmente nelle donne e guarda caso erano tutte doti di cui la sua quarta moglie Anna Di Cleb la povera Anna Di Cleb la povera fortunatissima Anna Di Cleb era sprovvista ma per il resto Catherine non brillava per acutezza mentale quindi la piccola Howard era un perfetto burattino per la sua famiglia come a suo tempo lo era stata Jane Seymour ma la differenza tra loro due è che Jane dimostrò di possedere una sua capacità di ragionare per conto proprio e anche di prendere in mano la situazione quando lei si presentava l'occasione e come mi hanno fatto notare alcuni nei commenti sotto al suo video se fosse vissuta abbastanza a lungo dopo la nascita del figlio probabilmente avrebbe anche potuto formare un partito di opposizione alla politica di stampo protestante di suo fratello Edward Seymour e veicolare il pensiero di suo figlio Edoardo verso il cattolicesimo quando fosse diventato re questo comunque è sempre il gioco dei se siamo nel campo delle ipotesi di Catherine non possiamo però dire lo stesso ma semplicemente perché Catherine non ebbe mai modo di dimostrare una tale propensione al comando perché era molto giovane e totalmente inesperta e impreparata a quel ruolo mentre Jane avrebbe anche potuto regnare in quanto regina con Catherine è molto più probabile che sarebbe stato suo zio il duca di Norfolk a reggere davvero le redini del potere prima di passare al succo della vicenda bisogna fare un breve ma importante accenno al fatto che al suo arrivo a corte nell'inverno del 1539 prima che Enrico si accorgesse di lei Catherine aveva avuto modo di innamorarsi di nuovo il nuovo innamorato era Thomas Kalpeper suo lontano cugino per parte di madre e gentiluomo di camera del re addetto alla vestizione e alla spogliazione del sovrano quindi vi lascio solo immaginare l'importanza di questo ruolo a corte lo rendeva veramente vicinissimo al re e in tutto questo era anche uno dei favoriti di Enrico che lo apprezzava molto per la sua giovinezza e bellezza io vorrei ipotizzare senza nemmeno temere di sbagliarmi che Enrico proiettasse su Thomas Kalpeper il suo sé più giovane non mi intendo non sono psicologo però mi intendo quel tanto che basta per capire magari come funzionano quei piccoli meccanismi della mente umana a dispetto della sua alta carica a corte Thomas Kalpeper non era quello che si potrebbe definire un gentiluomo visto che fu protagonista in prima persona di un orribile crimine quando lui e un gruppo di giovinastri abusarono di una giovane contadina e in più uccisero un uomo che era corso a difenderla pensate che abbiano pagato per questo crimine ma ovvio che no come un Beppe Grillo ante litteram Enrico disse e vabbè dai sono ragazzi non è successo nulla di che Enrico vaffanculo scusate ma mi sta mi sta uscendo più andiamo avanti peggio è con Enrico ecco scusate io Enrico abbiamo un rapporto molto tossico lui è proprio non mi sta sulle palle io penso che gli sarei stato sulle palle anche io se mi avesse conosciuto quindi sì su questo siamo all'unisono allora sarà stato il fascino del delinquente non lo so fatto sta che Catherine si invaghì di Calpeper e lui a quanto pare la ricambiò di buon grado ma questa relazione in boccio ebbe vita breve come abbiamo detto dopo pochi mesi Enrico notò Catherine tra le dame Diana di Cleve e le dimostrò fin da subito un evidente interessamento circostanza che come abbiamo già detto fu veicolata dal duca di Norfolk in modo da spingere la nipote nel tal amor reale abbiamo già parlato delle circostanze che portarono Enrico a porre fine al suo quarto matrimonio diciamo solo che dopo il veloce divorzio da Anna di Cleve Enrico non volle perdere altro tempo e lui e Catherine si sposarono il 28 luglio del 1540 vi ricordate la leggenda che vuole che Enrico VIII abbia sposato Jane Seymour il giorno stesso della decapitazione di Anna Bolena leggenda che come già abbiamo detto non ha alcun riscontro ecco quella infatti non è mai avvenuta è invece vero il fatto che lo stesso giorno del matrimonio di Enrico e Catherine venne decapitato Thomas Cromwell l'ormai ex primo ministro la cui unica colpa era stata l'aver proposto a Enrico il matrimonio con Anna di Cleve bene che bell'inizio un matrimonio e un'esecuzione capitale chissà che cosa c'è che cosa mai potrebbe andare storto con un inizio del genere con questo inizio così radioso ma sicuro proprio fiori d'arancio e gocce di sangue proprio bellissimo una fiaba mamma mia già c'era una volta il matrimonio con Catherine fu un vero toccasana per Enrico essere sposato con una ragazzina che aveva l'età per essere sua nipote a quanto pare lo faceva sentire ringiovanito come in un episodio di cuori senza età io mi immagino Enrico che era tutto quanto ah sì che bello non mi sento più sulla soglia dei 40 per forza perché sei sulla soglia dei 50 va bene non voglio scusate non voglio fare non voglio criticare i matrimoni intergenerazionali per carità ognuno fa quello che vuole liberissimi di farlo assolutamente ma il problema con Enrico è che lui viveva la cosa in maniera molto tossica perché lui attraverso questo matrimonio con una giovinetta pensava di poter essere giovane a sua volta considerando che non era più giovane quindi ok quindi mentre Enrico stava affrontando al meglio questa questa sua crisi di mezza età ecco diciamocelo come viveva la situazione la piccola Catherine non possiamo dirlo con certezza non essendo sopravvissuta nessuna sua testimonianza sincera al riguardo ma è probabile che essendo stata educata con la consapevolezza che il suo destino sarebbe stato quello di sposarsi probabilmente lo aveva aveva condisceso senza tanti problemi certo il fatto che poi a sposarla fosse stato il re d'Inghilterra di certo non doveva farle schifo come come situazione ok forse forse era consapevole che nel ruolo in cui si trovava avrebbe dovuto curare gli interessi della sua famiglia ma è molto più probabile che si godesse i piaceri che le derivavano da questo ruolo Enrico la colmava di ogni tipo di regali e attenzioni e praticamente Catherine si ritrovò letteralmente gettata in un girotondo di feste balli abiti nuovi gioielli cavalcate tutto finalizzato solo a darle piacere perché darle piacere era l'attuale piacere del re tutto gira attorno ad Enrico questo ormai deve essere chiaro da dal secondo matrimonio in poi penso sul fronte dei figliastri invece a differenza di Anna di Cleve che aveva legato con tutti e tre i figliastri abbiamo uno scenario diversificato con Elisabetta che era sua cugina di secondo grado doveva esserci un rapporto abbastanza cordiale per quel poco che devono aver interagito perché non dobbiamo credere che vivessero tutti sotto lo stesso tetto ma per niente ognuno dei figli dei figli del re aveva una sua piccola corte quindi invece il principe Edoardo era era comunque un bambino quindi Catherine forse si rapportava a lui con quella deferenza che si dà ad un erede al trono unita ad una tenerezza generata dalla sua tenera dalla tenera età del piccolo principe ben altro discorso per quanto riguarda Maria che era addirittura più grande di lei di sette anni circa suonava quasi ridicolo che Catherine Howard una ragazzina fosse la matrigna di Maria che era già una donna fatta tra le due non scorreva buon sangue probabilmente perché Maria non riusciva a concederle il rispetto che le avrebbe dovuto in quanto regina vedendola molto frivola e poco idonea ad un così grande ruolo e per ripicca Catherine andò a lamentarsene con Enrico e ottenne che due dame del seguito di Maria venissero allontanate da corte le ripicche proprio le ripicche quelle belle con la sua elevazione a nuova regina d'Inghilterra iniziarono a fioccare su Catherine richieste da parte di suoi parenti stretti lontani acquisiti e amici e amiche degli anni di Lambeth House per ottenere posti di lavoro a corte richieste che Catherine fu ben felice di accogliere e concedere e fin qui tutto a posto nulla di anomalo le cose iniziarono a risultare abbastanza pericolanti quando a richiedere e soprattutto ottenere un posto di segretario presso di lei fu il suo fidanzatino di un tempo Francis Derham ritornato dall'Irlanda con la scoperta che la ragazza che avrebbe voluto sposare non lo aveva aspettato per niente assumere il suo ex senza specificare ovviamente che fosse un suo ex è stato ritenuto da molti un azzardo ma bisogna considerare gli eventuali consigli che Catherine deve aver avuto dai suoi parenti più stretti probabilmente gli Howard avranno pensato che assumere e stipendiare profumatamente Derham lo avrebbe aiutato a tenere chiusa la bocca ed evitare di spifferare troppe cose sul passato non tanto innocente della quinta moglie del re che potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due poi era molto difficile se non impossibile dal momento che Catherine era ancora molto presa dal suo ultimo corteggiatore Thomas Calpeper infatti dopo essersi inizialmente tirato indietro dopo il matrimonio di Catherine con il re i due giovani si erano di nuovo riavvicinati non sappiamo bene in quali circostanze e soprattutto non sappiamo perché perché la tragica fine di Anna Bolena rappresentava un monito a tutti coloro che sarebbero venuti in seguito tradire il re equivale a tradire l'Inghilterra intera ciò portava alla morte sul patibolo Anna era stata accusata tra le altre cose di tradimento e di aver commesso adulterio ed era innocente perché sfidare la sorte in questo modo rendendosi davvero colpevoli di adulterio la risposta è quanto di più banale e scontato possa esserci Catherine probabilmente era davvero innamorata di Thomas e il suo sentimento coniugato al suo sentirsi per certi versi intoccabile nel suo ruolo di moglie del re il fatto che vedesse soddisfatto ogni suo più piccolo desiderio tutto ciò magari la spinse a dare per scontato di ottenere anche quel piacere seppur tenuto segreto a tutti motivazioni meno romantici motivazioni meno romantiche dovevano invece muovere Thomas Calpeper ormai sapevano tutti che Enrico VIII non sarebbe vissuto ancora a lungo la sua salute era pessima le febbri e i malori causati dalle infezioni alle ulcere alle gambe non gli davano tregua per molti la sua morte era ormai questione di poco e dal momento che il principe Edoardo era ancora un bambino era ovvio che attenere le redini dell'Inghilterra sarebbe stato un reggente per questo ruolo molti già vedevano Edward Seymour lo zio materno del principe ma la presenza di una regina vedova poteva sconvolgere gli equilibri e in un certo senso un suo secondo marito avrebbe potuto avere molte possibilità di toccare il potere con mano e questo lo vedremo anche nel prossimo video sul il prossimo ultimo video su Catherine Parr allora probabilmente quindi Thomas Calpe per in Catherine vedeva più la regina che la donna più la possibilità di potere dopo la morte del re che è un amante sulla sincerità dei sentimenti di Catherine invece come ho detto credo ci sia poco da dubitare per quanto possa essere stato un sentimento prettamente ingenuo e adolescenziale a riprova però della sincerità dei suoi sentimenti è sopravvissuta fino a noi una lettera che lei scrisse a Thomas una lettera piena di errori di grammatica e con una ortografia spaventosa ma già il fatto che sapesse scrivere correttamente va a suo merito ma è molto triste sapere che questo è l'unico scritto autografo che ci sia rimasto di lei e vorrei leggervelo sempre riprendendolo dal romanzo Il re e il suo giullare di Margaret George che comunque al di là del fatto di sposare di essere un romanzo e di sposare molte leggende e luoghi comuni è molto accurato in molti punti e qui viene riportata tutta la lettera punto per punto Messer Kalpeper mi raccomando di tutto cuore a voi e vi prego di farmi sapere come state mi è stato detto che siete malato e questo mi ha dolorata moltissimo e attendo di avere vostre notizie e vi prego di farmi sapere come state non ho mai desiderato nulla quanto desidero vedervi e parlare con voi cosa che spero avverrà presto questo mi conforta molto quando ci penso e quando penso che poi mi lascerete di nuovo mi sento morire al pensiero di non poter stare sempre in vostra compagnia confido sempre che farete come voi mi avete promesso e continuo a sperare e a pregare che verrete quando c'è qui Lady Rocheford perché allora avrò migliori possibilità ad essere ai vostri comandi vi ringrazio per aver promesso di essere buono con quel mio povero servitore è uno dei dispiaceri che provo di lasciarvi perché non conosco nessun altro al quale possa fidarmi per mandarlo da voi perciò vi prego di tenerlo con voi in modo che io possa qualche volta avere vostre notizie vi prego di darmi un cavallo per il mio servitore perché ho molte difficoltà a procurarmelo perciò vi prego di mandarmene uno per suo mezzo e così mi congedo da voi fiduciosa di vedervi presto vorrei che foste con me ora perché così vedreste quanta pena mi prendo nello scrivervi vostra finché avrò vita Catherine beh allora emergono certo gli errori grammaticali le ripetizioni e la poca la poca competenza nella scrittura però non si può non negare che Catherine non fosse sincera nei suoi sentimenti molti etichettano Catherine come una stupida proprio per questo per questa relazione io personalmente non la reputerei stupida più che altro la definirei incosciente anche perché Catherine stupida non era era perfettamente consapevole che quello che lei e Thomas stavano facendo che quello che loro due stavano facendo era un crimine contro la corona tanto che sappiamo anche che Catherine stessa diceva a Thomas di non confessare mai questo peccato la domenica ammessa quando andava a confessarsi perché altrimenti il re voce di Dio in terra secondo le nuove normative in chiave religiosa ecco secondo quanto legge il re voce di Dio in terra li avrebbe scoperti subito certo lei la pensava in maniera superstiziosamente religiosa ma non era tanto distante dalla realtà nei suoi timori bastava semplicemente che venisse sparsa la voce e lei e Thomas sarebbero stati perduti alcuni storici per spiegare questa relazione appunto incosciente hanno avanzato l'ipotesi che il vero intento di Catherine fosse quello di rimanere incinta per poter spacciare come figlio del re il frutto di quella relazione segreta ma questa è una teoria da scartare durante gli interrogatori che subirono in seguito sia Catherine che Thomas furono concordi nel dire che sebbene avessero avuto una relazione o comunque avessero avuto una relazione platonica e avendo fatto delle cose a livello di baci e carezze non avevano mai avuto rapporti completi proprio per evitare che Catherine potesse rimanere incinta e proprio per non commettere adulterio nel vero senso della parola nel senso carnale del termine i due però non portarono avanti questa relazione da soli ebbero un complice anzi una complice una persona che abbiamo già intravisto nel video su Anna Bolena sto parlando di Jane Parker viscontessa di Rocheford la moglie di George Bolena e cognata di Anna Bolena con lei che aveva contribuito a mandarli al patibolo con una falsa accusa di incesto la storica Antonia Fraser definisce Jane Parker un uccello del malaugurio e per quanto sia brutto a chiamare così una persona non credo sia una definizione tanto erronea Jane Parker è presente in maniera silenziosa lungo tutte le vicende delle Six fu dama di compagnia di Caterina d'Aragona prima di passare al partito dei Bolena grazie al suo matrimonio con George ebbe un ruolo cruciale nella caduta della cognata Anna Bolena era tra le dame più vicine a Jane Seymour fino alla morte di quest'ultima ed era stata riconfermata come dama anche durante i pochi mesi di regno di Anna di Cleve ruolo che mantenne anche sotto Caterina Howard questo proprio quando da semplice comparsa assorge al ruolo di coprotagonista fu Jane Parker infatti a fare da mezzana tra i due amanti ad organizzare i loro incontri segreti e anche a coprirli è famoso un episodio avvenuto tra l'estate e l'autunno del 1541 mentre la corte viaggiava nel nord del regno durante la sosta in un palazzo di York Caterine e Thomas continuarono i loro pericolosi incontri e una sera mentre i due si stavano intrattenendo nella stanza di Caterine arrivò lo stesso Enrico desideroso di vedere la moglie ma fu la stessa Jane Parker a bloccare il re e ad impedirgli di entrare nella stanza dicendo che Caterine stava già dormendo sicuramente i tre passarono dei bruttissimi istanti quando furono lì per essere scoperti ma per quella volta le cose andarono bene Enrico si lasciò convincere dalle parole di Jane e se ne andò questo episodio venne riferito dalla stessa Jane quando venne interrogata Caterine e Thomas pur con tutte le precauzioni che prendevano forse sottovalutavano più del dovuto la portata delle loro azioni forse obnubilati dal fatto che l'una era l'amata quinta moglie del re l'altro era uno dei suoi favoriti ma forse stavano dando un po' troppo per scontato l'affetto che il re aveva per loro Enrico sebbene si mostrasse molto di buon umore con la sua nuova giovane moglie e comunque era un uomo che continuava a lasciarsi andare a pericolosi eccessi di rabbia e di ira e già poco prima di quel viaggio nel nord di cui abbiamo parlato in cui si tenne questo episodio in cui erano stati quasi lì per essere scoperti ebbene poco prima di questo viaggio nel nord Enrico aveva dimostrato ancora una volta a tutto il mondo di quale crudeltà lui fosse capace vi ricordate Margaret Paul l'anziana contessa di Salisbury di cui vi ho già parlato nello scorso video da tempo l'ormai pluri sessantenne contessa vegetava in una cella nella torre di Londra contro di lei non era mai stata spiccata una accusa vera e propria né era mai stata sottoposta ad un processo eppure il 27 maggio del 1541 venne svegliata con la comunicazione che sarebbe stata decapitata quella stessa mattina lei si oppose con tutte le sue forze perché non si riconosceva colpevole di alcuna di alcuna colpa né era stata processata in alcun modo ignorando le sue proteste i suoi carcerieri la trascinarono sul patibolo ma anche lì Margaret Paul non si placò e tentò di fuggire per non essere decapitata il boia finì per inseguirla lungo tutto il palco menando fendenti con la mannaia come farebbe un cuoco che cerca di tagliare il collo ad una gallina in fuga alla fine ci vollero dieci colpi di mannaia per uccidere quella fragile e anziana donna l'orribile morte di Margaret Paul colpevole soltanto di avere sangue reale nelle vene lasciò sconcertate un sacco di persone soprattutto molti di quelli vicini alla corte se una donna innocente famosa per la sua bontà era stata decapitata come una comune traditrice senza colpe senza processo senza niente che speranze c'erano per persone che invece di colpe ne avevano bisogna quindi tenere bene a mente questo sempre più crescente timore che serpeggiava per la corte per meglio comprendere come si arrivò alla caduta di Catherine Howard tutto però tutto parte però dalla sempre presente lotta tra partito cattolico e partito protestante di cui vi ho parlato prima poco dopo il ritorno della corte dal nord l'arcivescovo Cranmer la voce più eminente del partito protestante dopo la morte di Cromwell venne informato da alcuni suoi fedeli della condotta scandalosa tenuta da Catherine durante la sua prima adolescenza a Lambeth e venne fatto subito il nome di Francis Derham da qui si mise in moto la macchina del fango che avrebbe dovuto svelare tutti gli altarini di una vicenda nota a tutti e silenziata da molti sebbene la condotta poco cristallina di una regina fosse di per sé già un grandissimo scandalo l'intento principale rimaneva quello di affossare l'ala cattolica tradizionalista della corte Francis Derham venne subito arrestato e messo sotto torchio perché confessasse i suoi trascorsi con la regina e il giovane ben presto forse perché sottoposto a tortura non si sa con esattezza confessò di aver avuto rapporti carnali con Catherine durante il loro periodo a Lambeth ma che adesso colui che era nelle grazie della regina era Thomas Culpeper con queste prime prove in mano Cranmer fece avere una lettera ad Enrico in cui venivano riportati i misfatti passati e presenti della sua amata giovane moglie potete immaginare lì l'effetto su Enrico apriti cielo lui divenne una furia come poche volte gli era davvero capitato arrivò addirittura a chiedere una spada per poter trafiggere Catherine con le sue stesse mani poi ovviamente passò all'autocommiserazione incolpando il suo consiglio della corona perché nella sua testa erano stati loro a convincerlo a sposarsi se vabbè e dicendo che gran sfortuna per lui aver avuto tante mogli sciagurate per la seconda volta Enrico e così il regno di Catherine Howard giunse alla sua fine in un attimo dall'oggi al domani la ragazza venne separata dalle sue dame dalle sue dame di compagnia la confessione di Derham fu come un fiume in piena tanti altri testimoni dei trascorsi di Catherine gli stessi parenti amici dame che da Lambeth erano venute a chiederle un posto di lavoro iniziarono a confessare di tutto e di più probabilmente per timore di venire incriminati si lasciarono andare a confessioni anche gonfiate esagerate se non addirittura inventate anche tutti i suoi parenti Howard sua nonna la duchessa vedova di Norfolk suo zio il duca di Norfolk tutti coloro che per primi avevano beneficiato della sua fortuna la abbandonarono a se stessa e le confessarono tutti i suoi crimini passati crimini vabbè ci arriviamo subito ciò però non servì a salvarli perché Enrico ordinò l'arresto di tutta la famiglia Howard tutti tranne il duca di Norfolk che anche a questo giro si scansò la pallottola scrivendo una servile e mielosa lettera al re in cui chiedeva perdono per i peccati commessi dalla sua famiglia in particolare dalle sue due sciagurate nipoti con riferimento anche ad Anna Bolena successivamente dopo dopo la fine di questa tragica storia dopo che la rabbia di Enrico sbollì definitivamente i restanti Howard che erano stati imprigionati vennero a mano a mano rilasciati ma Catherine era aspettata invece una sorte ben più tragica dopo essere stata separata dalle sue dame Catherine venne tenuta inizialmente segregata al castello di Sion House dove venne interrogata dallo stesso arcivescovo Kramer terrorizzata a morte Catherine pure confessò ogni cosa sia la relazione con Francis Derham che quella attuale con Thomas Calpeper ma fu sempre ferma nel dire che l'adulterio fisico non era mai stato commesso cosa che anche lo stesso Thomas Calpeper avrebbe confermato ma qui Catherine commise un errore che le fu fatale tentò di smorzare le sue colpe se si fosse giocata la carta del precedente legame con Derham della precedente promessa di matrimonio che Derham pure aveva confessato ecco se si fosse avessi avvalorato anche lei questa testimonianza avrebbe potuto magari sperare di salvarsi perché l'esistenza di un precedente contratto di matrimonio avrebbe di conseguenza invalidato l'unione con il re quindi il matrimonio con Enrico non sarebbe mai stato valido di perciò non sarebbe potuta essere stata accusata di adulterio anzi tutt'al più poteva essere accusata di aver commesso adulterio con il re nei confronti di Derham paradossalmente quindi questo probabilmente avrebbe potuto salvarla ma Catherine come abbiamo già detto non era abituata alle tortuosità degli intrighi politici e giuridici per cui in maniera parecchio ingenua disse che Derham l'aveva costretta con la forza ad unirsi a lui sperava probabilmente di attenuare le sue colpe passando per vittima invece in questo modo diede il fianco all'accusa di adulterio vero e proprio adulterio io io personalmente comunque al di là di come sarebbero potute andare le cose non credo che Enrico avrebbe anche solo pensato di lasciare andare Catherine vista la possibile invalidità del loro matrimonio lui non avrebbe mai permesso di usare questa possibilità per scansarsi l'accusa di adulterio e salvarsi lui avrebbe cercato in tutti i modi di farla condannare a morte comunque solo la morte di colei che l'aveva tradito e la morte dei suoi amanti e contici avrebbe potuto dargli la soddisfazione che lui adesso andava cercando a finire nell'espire della giustizia vendicativa del re finirono quindi anche l'amante passato e l'amante presente Francis Derham e Thomas Kalpeper ognuno dei due aveva tentato in tutti i modi di salvarsi la vita gettando la colpa interamente su Catherine ma non servì a niente vennero processati come traditori e condannati alla morte dei traditori impiccati sventrati ancora vivi e decapitati ma Enrico decise di commutare la pena di Thomas Kalpeper alla sola decapitazione forse continuava a vedere in quel bel ragazzo un giovane se stesso chissà probabilmente odiava di più Derham perché aveva colto l'innocenza della regina Catherine prima di lui niente fatto sta che Thomas Kalpeper venne decapitato mentre invece Francis Derham venne impiccato tirato giù dalla fune ancora vivo e sventrato e infine decapitato quando Catherine venne trasferita alla torre di Londra vide le teste dei suoi due amanti conficcate sugli spalti del castello già ad indicarle qual era il suo ultimo destino anche Jane Parker la contessa di Rochford venne portata alla torre dove forse sfiancata dal terrore e dallo stress magari circondata dai fantasmi di suo marito George e di sua cognata Anna morti anche loro tra quelle mura cadde vittima di una forma di esaurimento nervoso da molti definita vera e propria pazzia questo avrebbe potuto salvarla perché in Inghilterra era vietato per legge giustiziare le persone inferme di mente ma Enrico non voleva far scappare nessuno alla sua vendetta quindi giocò a fare Dio cambiò e cambiò la legge affinché anche i malati di mente potessero venire giustiziati su base giuridica non c'erano prove che permettessero un verdetto di colpevolezza nei confronti di Catherine ma neanche nei confronti di tutti gli altri imputati nessuno di loro nemmeno Francis Derham nemmeno Thomas Culpeper né Catherine né Thomas avevano confermato di aver commesso adulterio fisico e Derham aveva parlato della promessa di matrimonio tra lui e Catherine cosa che avrebbe dovuto sollevare la ragazza e anche lui dall'accusa di adulterio ma Enrico varò un atto di confisca una sorta di legge un documento in base al quale Catherine veniva condannata per gravissima supposizione di aver commesso adulterio questo atto di confisca sarebbe stato un memorandum per il futuro da allora in poi qualunque altra ragazza che fosse rimasta vergine al di fuori del matrimonio e avesse menti giurato il falso dicendo di essere vergine mentre non lo era sarebbe stata passibile di carcere quindi ormai a quanto pare già questo indicava che i giochi di potere in cui le varie famiglie spingevano le proprie figlie nel letto del re erano praticamente giunti alla fine con questo atto di confisca ma ci arriveremo nel prossimo video bene quindi alla fine in altre parole quindi Catherine veniva condannata per gravissima supposizione di aver commesso adulterio non per l'adulterio vero e proprio in altre parole non occorre prove non occorrevano prove a riguardo bastava il solo sospetto così il 12 febbraio del 1542 a Catherine venne comunicata la sua condanna a morte come ultima richiesta la ragazza chiese che le venisse portato il ceppo del boia per esercitarsi e sapere come poggiarvi sopra la testa forse temeva che potesse capitare anche a lei la stessa terribile morte di Margaret Paul il giorno dopo 13 febbraio del 1542 Catherine Howard assieme alla sua dama e complice Jane Parker non più isterica ma calma come chissà che le sue pene stanno per finire venne condotta al patibolo si dice che le sue ultime parole siano state muoio come regina ma avrei preferito morire come moglie di Thomas Culpeper anche questa frase è un'invenzione romantica successiva in realtà Catherine era talmente spaventata che ebbe a malapena la forza di dire le solite frasi di circostanza che si diceva sul patibolo perdono per i propri peccati e per aver offeso gravemente il re e la richiesta che gli altri pregassero per la sua salvezza basta lei che era stata un fringuello canterino svolazzante e chiassoso se ne andò in silenzio con il solo colpo della mannaia che le tagliava la testa a rompere quel silenzio quel gioioso girotondo attorno alla corona inglese l'aveva infine condotta sul patibolo e la sua ultima danza si concluse sul ceppo del boia Catherine Howard aveva circa vent'anni al momento della sua morte ed era stata moglie di Enrico VIII e regina d'Inghilterra per circa diciotto mesi proprio come Jane Seymour Jane Parker la seguì pochi minuti dopo concedandosi dal mondo in maniera tranquilla e dignitosa poggiando la testa sul ceppo sporco del sangue della sua piccola regina le due donne sarebbero state sepolte nella cappella di St. Peter ad Vincola dove già era sepolta Anna Bolena quasi a chiudere per sempre una lunga tragedia familiare leggenda vuole che la piccola Elisabetta avrebbe giurato proprio dopo quell'episodio che non si sarebbe mai sposata probabilmente perché l'esecuzione della matrigna e cugina Catherine Howard doveva aver portato alla memoria di chi la circondava la tragica morte di sua madre Anna Bolena molti tendono ad affermare che Catherine Howard aveva tradendo il re a percetti versi vendicato sua cugina Anna Bolena che invece era stata giustiziata con false accuse di adulterio francamente non vedo dove sia la vendetta non vedo dove sia il riscatto in tutto questo il fatto che le accuse di adulterio imputate a Catherine fossero vere e abbiamo anche visto quanto il concetto di adulterio fosse di base precario all'interno del suo processo ebbene tutto questo non elimina il fatto che Anna Bolena fosse innocente lei non ottene alcuna riabilitazione dalla morte della cugina non venne mai nemmeno nominata a parte alcuni sporadici riferimenti nella lettera di scuse del duca di Norfolk io non vedo vendetta non vedo rivincita vedo solo troppo sangue versato non vedo vendetta femminile nella morte di Catherine Howard vedo solo la malvagità di un uomo pericolosamente egomaniaco la vendetta è stata tutta di Enrico che ha voluto infierire su Catherine e su tutti gli altri personaggi di questa tragedia unicamente per consolare il suo ego mortificato sinceramente io non trovo nulla da condannare in Catherine Howard solo da compatire spero di avervi mostrato un diverso lato da cui guardare la sua storia e ci spero di cuore anche perché penso che Catherine se lo meriti si meriti magari maggior comprensione bene e concludiamo con la cultura generale bene ormai già vi ho detto ormai che anche Catherine viene nominata nel romanzo Il re il suo giullare di Margaret George e qui l'autrice le fa dire sul patibolo proprio le leggendarie famose frasi muoio da regina ma avrei preferito morire come moglie di Thomas Calpe per una piccola presa una piccola concezione artistica poi ovviamente viene nominata anche da Antonia Fraser nel suo testo Le sei mogli di Enrico VIII che comunque è diventato la mia fonte per tutti questi video e poi beh concludiamolo dai ritorna l'eredità della regina di Filippa Gregory di cui ho già parlato nel video precedente su Anna di Club non ho voluto accennare più di tanto perché questo è un romanzo a tre voci narranti tre ponto view in prima persona uno su Anna di Club che però ha importanza solo per tutta la prima parte dalla seconda metà del romanzo in poi diventa noiosa e totalmente priva di contenuti e le altre due voci sono naturalmente Catherine Howard e Jane Parker che qui diventa un po' con la cattiva la 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 malvagia del romanzo allora diciamo che l'autrice qui sempre in vena di revisionismi diceva che ha scritto questo romanzo perché voleva sfatare il mito che voleva Anna di Club brutta e Catherine Howard una stupida ebbene pensate che lei abbia reso Anna di Club più bella o Catherine Howard più intelligente ma ovvio che no assolutamente ha reso Anna di Club una figura scialba e reso Catherine Howard una piccola occhetta giuliva una stupida che ogni volta ogni capitolo dice vediamo adesso che vestiti ho vediamo ho 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 50 pari di pantofole due pantofoli di ermellino oh che bello e questo è il bel vestitino di taglio rosa con cui posso andare a ballare che bello sono una stupida sono un'occhetta giuliva Filippa Gregory bel modo che hai di rivalutare i personaggi e di affossarli molto su Jane Parker beh devo dire è l'unico personaggio meglio costruito da Jane Parker è forse l'unico personaggio che è salvo di questo romanzo che per inciso è anche uno dei meno peggiori il che è tutto dire bene chiudiamo qui la parentesi su Filippa Gregory con la consapevolezza che ritornerà ancora poi poi ah sì poi Alison Ware ha dedicato ovviamente anche un romanzo sempre a Catherine Howard per la sua serie di romanzi sulle sei moglie di Enrico VIII romanzo che probabilmente potrebbe uscire il prossimo anno non lo so tutto dipende dalla nostra editoria e in più su Catherine Howard ci sono tanti altri testi sia storici che romanzeschi che però si possono trovare più che altro solo in inglese ed è molto difficile trovare da noi in italiano il testo in inglese più famoso sicuramente e più preparato su Catherine è A Tudor Tragedy di Lacey Baldwin Smith per quanto riguarda la sua rappresentazione in cinema e televisione Catherine Howard è il personale è la protagonista femminile nel film Le sei mogli di Enrico VIII del 1933 in questo film lei è interpretata da Benny Barnes e compare fin dall'inizio del romanzo e l'incontro tra lei ed Enrico compare fin dall'inizio quando lui sta per sposare Jane Seymour e come sottotrama vediamo lei che si innamora la storia di Thomas Calpe e da lì seguiamo tutta la sua vicenda fino al matrimonio con Enrico gli adulteri con Thomas fino alla sua caduta praticamente la storia di Thomas di Catherine è una storia principale nel film Le sei mogli di Enrico VIII del 1933 poi è stata interpretata nel film inglese Tutte le donne del re del 1936 1972 da Linny Frederick che secondo me a livello di Physique du Role è quella molto vicina come doveva essere la Catherine Howard originale a livello di Physique du Role mentre invece è stata interpretata da Emily Blount la famosissima Emily Blount nella miniserie del 2003 Henry VIII la stessa dove ha recitato Elena Bonancarter nel ruolo di Anna Bolena poi nella serie tv i Tudors lei compare sul finire della terza stagione ed è protagonista indiscussa della prima metà della quarta stagione ed è interpretata da non riuscirò mai a pronunciare con esattezza il suo nome da Tamzin Mershant che devo dire mi mi piacque a suo tempo come si come Catherine l'ho trovata sempre molto adatta per il ruolo a livello di Physique du Role e anche come costruzione del personaggio perché le dà secondo me un ritratto molto vivo e sfaccettato non è soltanto una figurina frivola capricciosa e ingenua è anche molto molto seria molto drammatica e molto tragica nei suoi nei suoi momenti più importanti Tamzin Mershant secondo me ha fatto un ottimo lavoro con la sua Catherine Howard nei Tudor l'unico problema però è come hanno reso la storia infatti io vi ho detto tutto lo scenario che c'era alle spalle ovvero gli Howard che volevano combattere i Seymour per ottenere il potere tramite il matrimonio di Catherine con il re ebbene tutta questa storia nei Tudor non viene assolutamente rappresentata anzi viene completamente esnaturato questa lotta di potere Catherine Howard viene vista come una creatura stessa dei Seymour che la vogliono usare per invalidare il matrimonio del re con Anna di Cleve e colpire in questo modo Thomas Cromwell e devo dire ragazzi è una stronzata colossale dall'inizio alla fine come hanno reso e si capisce subito che hanno fatto un lavoro di arrampicata sugli specchi incredibile soprattutto nella parte finale nella parte della caduta con loro che sono gli stessi che devono causare la morte la caduta di Catherine perché altrimenti verrebbero implicati anche loro nello scandalo e ragazzi arrampicamento sugli specchi come se non ci fosse un domani vabbè quindi buona interpretazione struttura storica catastrofica per quanto riguarda la musica la band dei Black Moves Nights ha dedicato a Catherine una canzone molto melodica dai tratti molto rinascimentaleggianti con un accompagnamento per chitarra molto ammaliante che si intitola Catherine Our Phase non so se magari ve lo lascio linkato qua nell'info box devo vedere perché posso lasciare linkati al massimo 5 video vedo un poco se ci riesco ve lo lascio linkato così come vi lascio linkata la canzone di Catherine Howard all'interno del musical 6 ovvero All You Want Do allora nel musical 6 penso che Catherine Howard sia una delle 6 maggiormente ben rappresentata perché la sua canzone è molto chiara lei non esprime solo il suo essere ma racconta anche la sua vita è una canzone che si scandisce attraverso i vari amori quindi o relazioni quindi Henry Menox Francis Derham il re e Thomas Culpeper fino ad arrivare alla parte finale in cui lei disperata capisce che nulla cambierà mai che alla fine lei è sempre solo stata una bambolina sfruttata e maltrattata dagli altri la canzone è cantata molto bene molto di impatto molto ben interpretata però è bello come l'hanno resa nel musical live infatti lì viene con l'interpretazione si vede Catherine Howard che a ogni ritornello della canzone è sempre più abbattuta come se fosse perennemente sbattuta come se stesse soffrendo sempre di più molto bella come canzone molto di impatto e beh si conclude qua il video ho sporato anche di parecchio ve l'avevo detto che sarebbe durato a lungo beh mai lungo come quello su Anna Bolena quello mai vabbè e niente quindi ora ci resta solo l'ultima delle six e vabbè mi terrò il resto per la prossima e ultima video lezione con cui chiuderò questa nuova miniserie bene ragazzi il video lo concludo qui spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su cosa ne pensate voi di Catherine Howard se magari la ritenete anche voi una stupida se magari aver scoperto molti aspetti della sua storia magari vi aver fatto cambiare idea o siete sempre del vostro parere fatemi sentire le vostre opinioni mi piace tanto starvi a sentire a leggervi a rispondere a tutti i vostri commenti veramente grazie iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao ciao